L'obiettivo è quello di far arrivare le grandi navi di linea al porto di Ravenna. Così Daniele Rossi, presidente dell'autorità portuale di Ravenna, commenta al Corriere di Bologna la scelta della multinazionale cinese Costco Shipping, uno dei più grandi armatori al mondo, di indicare la città romagnola come scalo alternativo a Genova. La scelta di Costco Shipping dipende da due fattori, commenta Rossi, le difficoltà in cui si trova Genova e soprattutto il fatto che Ravenna sta riacquistando il suo posizionamento nel mercato dei trasporti marittimi grazie al progetto di approfondimento dei fondali e all'investimento nel lab portuale. È ora di smettere, aggiungerossi, di pensare a noi come il porto di una sola città. Noi siamo il porto dell'Emilia-Romagna. Abbiamo investito oltre 600 milioni per rendere più competitivo il porto commerciale e trattenere in Italia merci e lavoro. Ma non sarà Costco Shipping l'unico ad arrivare. Nel 2021, anticipa Rossi, la compagnia di crociere Royal Caribbean, avrà qui la base operativa e alcune delle grandi navi che prima erano su Venezia. Gli investimenti sono ingenti. Sul piatto è già 250 milioni per la prima fase del lab, poi 150 per la seconda. A Ravenna ogni anno arrivano 3.200 navi e partono 7.600 treni per una movimentazione complessiva di 27,5 tonnellate di mergi.